Il tempo di avvento è un itinerario di speranza, la speranza comporta infatti l'attesa fiduciosa e come diceva Don Tonino Bello, aspettare è sinonimo di amare. E ritroviamo anche quest'oggi Padre Ernesto della Corte. Bentrovato Padre Ernesto. Buona Immacolata a tutti quanti voi, il cuore. Chissà cosa ci dirai oggi, anche perché ci rivediamo e risentiamo ogni anno in questi giorni, in questo ormai da tempo, però c'è sempre la novità detta da te. Ma è molto bello questo testo perché noi lo leggiamo tantissime volte durante l'anno, ma io direi che l'annuncio a Maria della nascita di Gesù è un testo meraviglioso. Innanzitutto ci mette davanti questa creatura di 14-15 anni che ha avuto un incontro fondamentale della propria vita. È il sì di Maria, come ci ricorda San Bernardo, come ci ricordano le famose piastrelle della Robbia, del santuario di Laverna, così caro anche a tutta la spiritualità francescana. Il sì di Maria è un sì che apre il cielo sulla terra. Veramente Maria diventa il luogo dove Dio diventa carne. La sua pancia e il suo utero ha dato al figlio di Dio la carne. È qualcosa che quando lo pensiamo è davvero interessante. Il testo va letto davvero guardando a questa donna che è il simbolo dell'attesa. Ma poi solo le donne, in un certo senso, hanno la capacità e la struttura di capire quanto sia importante l'attesa. A noi uomini forse manca quella pazienza del sapere attendere, che è tipico di una donna che quando ha concepito aspetta un bimbo e lo tiene in sé. Che mistero! Il seme di Dio attraverso la parola dell'angelo feconda questa piccola vergine di Israele. E mentre c'è stato l'annuncio nel Tempio, nel momento solenne in cui il sacerdote Zaccaria offre l'incenso, succede una volta nella vita, una volta e mezzo, noi invece siamo qui nella zona più povera. Siamo a Nazareth. Siamo nella Galilea cosiddetta delle genti. A Gerusalemme c'è un sacerdote e qui c'è la sorpresa che il figlio di Dio nasce da una piccola vergine di Nazareth. E questo racconto meraviglioso è anche un dialogo, dove c'è un grande senso teologico. Perché l'angelo Gabriele, colui che rappresenta la forza di Dio, nel sesto mese in cui Elisabetta è già arrivata al sesto mese della gravidanza di Giovanni Battista, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio a questa piccola vergine. Gabriele, la forza di Dio, l'angelo della forza, della potenza. Gabriele incarna l'angelo che esprime la forza di Dio nel realizzare il piano. Infatti il seme di Dio arriva nell'annuncio dell'angelo. Che bello! Il seme della parola feconde in Maria colui che sarà la parola per tutti quanti noi. Ed è bello sapere che questa vergine, che era promessa sposa, ma in realtà era già sposata con Giuseppe, sono cresciuti insieme questi giovani. Giuseppe aveva avuto 4-5 anni più di lei. Sono giovani. Anche Giuseppe non dobbiamo rappresentarlo come un vecchio canuto, ma un giovane ai tanti. Sono cresciuti insieme. Insieme hanno progettato il loro futuro. E Dio entra nella vita di queste due persone. Entra con forza. Perché davvero, fin dall'inizio, da quel saluto, quando entrando da lei, vorrei far notare che noi abbiamo l'immagine su questi Vangeli dell'infanzia, che in realtà sono le nostre precomprensioni. Entrando da lei, la gente si immagina come ha fatto Giotto una casa, forse sulla strada, vicino alla fontana, ma il testo dice solo entrando da lei. Dove? Luca non lo chiarisce. Vuole solo dire che è un Dio che entra nel cuore di una vergine. È bello questo fare di Luca, no? Che mette queste frasi che poi hanno una profondità da scoprire. È un Dio che aspetta di entrare. E Maria accoglie. È un Dio che vuole fare grazie, abbiamo detto nelle domeniche precedenti, commentando Isaia 30-18. E in realtà quando arriva quest'angelo dice delle cose che sono veramente pesanti. Perché il primo saluto è Caire. È quello che diceva il profeta che abbiamo citato domenica scorsa. Gioisci figlia di Sion. Maria è la figlia di Sion. Gioisci. Tu che sei stata trasformata dalla grazia. Il Signore è con te. Sono tre saluti, tre parole pesantissime. Innanzitutto questo rallegrati. Una formula davvero interessante. Maria è vista come l'Israele fedele. La figlia di Gerusalemme fedele. Lei rappresenta quell'Israele che ascolta lo sposo che è Dio. Per cui è davvero interessante questo Caire. Dovremmo cambiarlo alla nostra Maria. Gioisci tu che sei stata trasformata dalla grazia. E l'angelo non la chiama Maria. C'è un secondo nome che sostituisce quasi. Un nome preso da un verbo al perfetto passivo. Tu che sei stata trasformata dalla grazia. Tu che sei la piena di grazia. Quando ci sarà il dogma dell'Immacolata, il Papa prenderà proprio questo verbo. Per indicare che Maria è stata trasformata, preparata per dare al mondo colui che è l'Immacolato della storia. Gesù, il figlio di Dio. E poi il Signore è con te. Questa formula a cui siamo troppo abituati perché la usiamo spesso come saluto liturgico. Ma in realtà, vedete, tutto questo indica un racconto di vocazione. Dio consegna a Maria una vocazione tutta particolare. Il Signore è con te. Ma è stato detto a Mosè, ad Abramo, ai profeti, a Giosuè, ai giudici. Il Signore è con te. Quindi davvero c'è una vocazione che Dio consegna a questa piccola vergine, la quale si lascia mettere sottosopra. Luca dice di etaracte nel testo greco. Fu turbata, ma non è il turbamento nostro morale, ma indica questa disposizione ad accogliere la parola di Dio. E poi si accende in lei il senso del saluto. Cosa avrà voluto mai dire l'angelo? Quindi c'è una spiegazione fatta poi da Gabriele. Quindi l'angelo dice non temere, come l'ha detto sempre in tutto l'Antico Testamento, il Signore. Non temere, cioè siamo davanti a un progetto che viene da Dio. Tu hai trovato grazia. E allora l'angelo spiega che ci sarà una maternità divina. Ecco, il seme della parola dall'alto scende nel grebo di Maria. Questa donna darà la propria carne al figlio di Dio. E poi addirittura anche il nome. Tu lo chiamerai Gesù, perché Yeshua significa colui che salva. Lui sarà Soter, il Salvatore. Lui sarà il figlio dell'Altissimo. Anzi, la sua è una natura divina. Regnerà sulla casa di Giacobbe e il regno non sarà un regno limitato agli anni della storia, ma sarà un regno senza fine. Che bella questa espressione. Sarà un regno senza fine. E Maria davanti a questo cielo che si è aperto sulla terra non fa come Zaccaria che vuole chiedere spiegazioni. Chiede solo come avverrà. La modalità. Maria si mette davvero nelle mani di Dio. Io credo che Maria, come dicono i padri, avesse progettato insieme a Giuseppe una sorta di, come dire, un matrimonio in cui c'era l'apertura a Dio. Quindi lei aveva una segreta intenzione di rimanere vergine. E quindi non riesce a capire come farò a rimanere vergine ed avere un figlio. Per avere un figlio bisogna unirsi al proprio marito. infatti lei dice non conosco uomo. E qui la realizzazione del progetto di Dio è meraviglioso. Dio mette insieme il desiderio di Maria che è anche quello di Giuseppe insieme alla vocazione. Perché? Perché lei sarà vergine e sarà anche madre e sarà anche moglie a tutti gli effetti. Perché Dio le fa capire che quel segreto di consegnare la propria vita a Dio sarà mantenuto. Perché il seme che è in lei non è il seme di Giuseppe ma è il seme di Dio. E quindi lei sarà vergine e madre. E il progetto riguarda sia lei sia soprattutto anche Giuseppe a cui certamente Maria ha comunicato questo evento che riguarda non solo lei non solo l'umanità ma riguarda anche il suo sposo. Ecco perché alla fine è molto bello quando l'angelo dà lui stesso un segno a Maria. Vedi? La tua parente Elisabetta nella vecchiaia ha avuto un figlio. Quindi nulla è impossibile a Dio. Nessun evento è impossibile a Dio. Qui Luca usa una parola greca rema, rematos che indica non solo una parola ma un evento ciò che accade. Vedi che quello che è accaduto a lei ti fa capire che niente è impossibile a Dio. E quello che avverrà anche in te il seme della parola di Dio si incarna dentro di te e diventerà davvero il figlio dell'Altissimo quello che nasce da te. Ecco perché il testo chiude con un desiderio bellissimo. Io desidero che avvenga di me quello che hai detto. È interessantissimo nel testo greco purtroppo avvenga di me in italiano non dice tutta la bellezza di questo optativus. dare il desiderio. Maria dà il proprio desiderio al progetto di Dio. Quindi lei davvero risponde con una disponibilità che dovrebbe essere la nostra. Quando la parola entra in noi vuole accendere il desiderio perché il dono che la creatura può fare al suo creatore più bello il dono più bello è io desidero che avvenga di me quello che hai detto. E in questo modo noi santifichiamo il nome di Dio. In questo modo portiamo il regno in questo modo noi realizziamo la volontà di Dio. Maria viene presentata dunque come davvero la persona che accoglie questa vocazione e la vive con tutta se stessa. Maria la figura di Maria ci introduce nel mistero stesso della salvezza la cui gioia ci verrà svelata nella semplicità di un bambino e viviamo tutti in attesa. E dobbiamo vivere come lei sì davvero perché l'attesa ecco l'avvento l'attesa è la ferialità nella quale noi sperimentiamo un Dio che è disposto a darci una sorgente di grazia però chiede a noi il desiderio e quindi di andare incontro a colui che ci viene incontro non si realizza mai davvero la relazione se ognuno di noi non risponde a questo invito. E certo la risposta che ha fatto Maria oggi io desidero che avvenga di me secondo la tua parola resta per tutti quanti noi cristiani la risposta più bella più alta più significativa e più profonda che la creatura umana possa fare al suo creatore. E l'attesa di rivederti dura poco questa volta perché domani seconda domenica di avvento ci ritroveremo in conversazioni bibliche. Bene a domani allora grazie padre Ernesto grazie buona settimana atta salome grazie a tutti grazie a tutti